Ciao a tutti e benvenuti in un altro video di Italiano. Oggi volevo fare con voi dei proverbi italiani che sono dedicati al mese di dicembre. Quindi vediamo insieme 6 proverbi riguardo il mese di dicembre. I proverbi italiani spesso derivano dalla tradizione contadina e i contadini lavorano e lavoravano anche una volta, anzi di più una volta, con mezzi più umili e meno tecnologici di adesso e quindi avevano bisogno di conoscere il tempo, le condizioni del meteo per poter seminare, per poter cercare di coltivare e poi per poter raccogliere. Dovevano stare attenti quindi al terreno e alle condizioni climatiche. Più era buono infatti il raccolto, dato anche dalle giuste condizioni del tempo, più potevano avere cibo per la loro famiglia, potevano vendere e quindi stare bene. Ecco perché era molto importante. Questi proverbi si sono tramandati nel tempo e al giorno d'oggi li usiamo solamente per una questione culturale, sono delle espressioni, ma una volta erano molto utili a chi lavorava la terra. Quindi vediamo insieme il primo proverbio che è dicembre gelato non va rispettato. Vuol dire che il freddo di dicembre va assolutamente bene e non bisogna essere negativi riguardo al freddo, al ghiaccio, alla neve. Perché? Perché se a dicembre c'è la neve e il ghiaccio, poi finito l'inverno, quando tutto ci scioglie, il terreno berrà l'acqua del ghiaccio e della neve sciolta e quindi sarà più un terreno più morbido, più nutrito, perché avrà bevuto e sarà pronto per essere seminato, pronto per essere coltivato. Quindi è molto importante questa espressione. Vedete che ho detto dicembre gelato, in questo caso gelato non è l'ice cream, ma gelato è l'aggettivo del mese, ciò vuol dire freddo. Ma gelato può anche essere il participio passato del verbo gelare, che significa proprio ghiacciare, molto freddo. E l'altra parola, disprezzato, anche questo è un aggettivo, può essere anche, viene dal verbo disprezzare, significa non accettare, non volere o anche parlare male di qualcosa o di qualcuno. Proverbi numero due. Natale verde, Pasqua bianca. Quindi il detto popolare per cui se a Natale non fa quel freddo tipico dell'inverno e quindi i prati rimangono verde perché non nevica, è molto probabile che poi durante il periodo di Pasqua, che è proprio l'inizio della primavera, potrà arrivare la neve. Pasqua bianca significa che ci sarà il bianco della neve sull'erba, sul terreno. E anche questo è molto vero. Sulla Pasqua anche ci sono dei proverbi proprio anche del tempo, quindi se Natale fa caldo per essere Natale, per cui non viene la neve, la neve arriverà più tardi, quindi durante il periodo di Pasqua. Numero 3. Se nevica 3 a dicembre, per tre mesi nevicherà. Quindi quando non c'erano questi cambiamenti climatici, quindi quando la neve arrivava nel periodo, nei mesi invernali, si diceva la neve che inizia a dicembre, poi dicembre, gennaio, febbraio, questi tre mesi nevicherà, perché è giusto che sia così. Questo era un proverbio molto veritiero e così, un detto popolare. Di solito qui in Italia a marzo non nevica perché noi entriamo nel periodo della primavera, ma è da 4-5 anni che per questi cambiamenti a volte abbiamo la neve anche a metà o fine marzo. Proverbio numero 4. Prima di Natale il freddo non fa male, da Natale in là ma il freddo se ne va. E di nuovo siamo sempre sul fatto che il freddo nel mese di dicembre, quindi a Natale, è una cosa positiva e quindi va bene che ci sia freddo, che ci sia pioggia, che ci sia neve, perché la terra ha bisogno di questo momento per poi essere più fertile, cioè poter essere coltivata e poter portare i frutti del terreno, quindi frutta, verdura e poter nutrire le persone e gli animali. Numero 5. Seminare decembrino vale meno di un quattrino. Questa è bella. Seminare decembrino vale meno di un quattrino. Allora seminare vuol proprio dire buttare nel campo, nell'orto le piante o i semi per aspettare che arrivi qualcosa a dicembre non va assolutamente bene perché fa troppo freddo. A dicembre i mesi invernali sono i mesi dell'attesa in cui bisogna aspettare che la terra si nutra, beva dell'acqua, della neve e si nutra. Quindi è il momento in cui la terra deve riposare. Quindi se uno semina a dicembre, ecco perché decembrino è l'aggettivo. Se si semina a dicembre vale meno di un quattrino, vuol dire vale pochissimo, non vale niente, è un lavoro inutile. Quattrino significa proprio ha un valore, vuol dire non valere niente. Si può dire non ho un quattrino, vuol dire non ho soldi, oppure non vale un quattrino, non vale nulla. Numero 6, l'ultimo è dicembre nevoso, anno fruttuoso. Quindi dicembre con la neve l'anno andrà molto bene. Fruttuoso vuol dire è un aggettivo e significa che darà frutti. Sarà un anno in cui il terreno darà frutti, avremo buoni raccolti. Quindi la terra sarà fertile di nuovo e il raccolto sarà buono. Ecco qua, ne conoscete altri proverbi con questo mese. Vi sono piaciuti questi proverbi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani per un altro video. Lasciate un mi piace e ciao a tutti!